Io ho portato un ospite straordinario, la mia sorella, che è un cesso. Sembra quello delle mille lire, lo sa? No. Di cosa parli stasera? Parlerò dell'amore, dei suoi risvolti psicologici, insomma, della mia donna. Una donna bella, bella, bella. Ma bella, ma bella, bella, ma di charme? Sì, l'ho trovata in Egitto. È favorevole il tradimento? Cosa pensa di Prodi? Di Bin Laden? Ha fatto anche trasmissioni su Rai 3 con Frizi, è vero? Sì. È stata la Rai, eh? Sì, ora la Rai mi ha richiamato. Per il che? O da Pagai Canone. Allà. Andiamo allà? De là? Ho preso un derfine, c'era scritto Costa Rica a mille euro, Costa Brava a mille due, Costa Azzurra a du mila euro, Costa Minchia che vuol crocello. Va bene, grazie, eh, zio. Arrivederci. Piccolo, ogni volta che ti rivediamo migliori sempre più. Bravo, bravo, Giacomo. Anche di. Sì, eh? Che accidentale. Vai via, qua mi si alza la gonna, poi si alza il vento. E poi si alza... Ma... Oh, io lo spengete il micro. Sì? Buongiorno, lei è la signorina Serena Maratea? Sì, sono io. Quanti cazzo di nomi ha a lei, scusi, eh? Sì.